ciao ragazzi bentornati consigli per un regalo di natale per i vostri smartphone di natale ogni anno come consuetudine vi darò una lista di quelli che a mio modo possono essere i marchi i telefoni fascia media entry level top di gamma che vi posso consigliare di andare a regalare a qualcuno se dovete fare un regalo se volete regalarvele a voi stessi o qua mi sono fatto una lista veramente ce n'è forse l'anno che c'è più quantità ma anche qualità degli altri anni l'innovazione magari non è stata poi diciamo eccellente dal punto di vista dell'innovazione sono comunque android tutti quanti o io s anche windows mobile c'è ovviamente propone dei telefoni anche i nokia gli ultimi nokia usciti adesso parliamo anche di nokia 2 che sta uscendo insomma che si rifà un po anche il trucco anche lei però diciamo l'innovazione è rimasta un po lì lì insomma siamo già arrivati a un punto oramai dove è difficile poi inserire feature nuove ma c'è stato qualcosa nei sistemi operativi di innovazione qualcosa anche nell'hardware anche nei dispositivi ma soprattutto una quantità una qualità di prodotti veramente elevata con dei prezzi che soprattutto nel mercato android tendono a scendere e a dare un rapporto qualità prezzo eccellente finalmente in questi anni si sta incominciando a girare un po da questa parte dare un prodotto di alta qualità a tutti partirei da huawei chi più ne ha più ne metta mate 10 lite non sto neanche a commentare la qualità di mate 10 io sono un fautore dei mate ho sempre detto che i mate sarebbe diventato il vero top di gamma di huawei in effetti mate 10 pro è il vero top ha capito che deve svoltare sul mate il mate è sempre stato un po all'ombra degli altri ma è sempre stato il migliore di tutti mate 10 pro tolto il prezzo che ancora adesso incomincia su 800 euro secondo me fuori portata preso come top di gamma prezzo 699 secondo me incomincia ad essere veramente un super dispositivo mate 10 lite a 350 euro è un rapporto qualità prezzo eccezionale chiaramente il rapporto qualità prezzo 350 si è già un prezzo che oggi è un top di gamma tipo un g6 quindi bisogna vedere poi come la intendete voi chiaramente me 10 lite è superiore a tutti i vari p9 light o p9 o p8 light che ci sono stati precedentemente qui parliamo di mate 10 light che è un'altra cosa della serie mate che va con un modello light veramente comunque huawei poi offre appunto vati p9 e p10 p10 light p9 light p8 light ancora insomma 130 140 euro in su si può tranquillamente trovare dei meteo di gamma in l'area che hanno schermi in hd molto bene o full hd e funzionano da di quindi huawei di tutto di più regalo di fascia entry level media e top di gamma poi proseguo iphone chi più ne ha più ne mette c'è l'otto c'è il 7 c'è il 6 c'è il 6s il 6s plus il 6 plus e l'x e poi vedremo cosa arriverà ancora ma lì siamo oltre natale quindi iphone veramente una gamma completa l'affare vero secondo me lo fate prendendo un 7 che sta calando un 6s un 6s plus che sono eccezionali li trovate a prezzi molto contenuti anche sotto i 500 euro 450 euro nuovi e sono degli smartphone veramente eccellenti quindi qua si può azzeccare anche regalo senza andare per forza sull'x o sull'otto che sono per pochi eletti nel senso pochi eletti tra virgolette insomma 1300 euro di smartphone uno magari anche li ama non li vuole spenderlo lo sbarfano oggi come oggi dipende come come la pensate ma veramente partendo dall'x 8 7 6s plus veramente iphone offre anche col prezzo visto la svalutazione degli altri un'occasione per fare un regalo lg l'anno uno dei forse l'anno insieme a samsung android lg g6 330 340 euro 300 euro poco più più pronti a casa del top di gamma g6 eccezionale v30 a poco più di 500 euro eccezionale quindi due prodotti azzeccati un rientro di lg alla grande nel mercato android due telefoni io sto parlando dei top di gamma ma se voi riuscite a prendere un g6 a poco più di 300 euro è quello il regalo non serve andare a prendere qualcosa di meno è un top a un prezzo di un medio di gamma sony xz premium vi indico solo uno sony x scusate xz premium veramente eccellente uno smartphone pensate top di gamma di sony a 500 euro dai 450 ai 590 lo trovate fantastico veramente il sony xz premium è uno dei migliori smartphone android di quest'anno sony ha rivisto un po anche l'estetica l'usabilità dei suoi prodotti sta incominciando a capire che il prezzo è infatti questo è molto più dentro il mercato android come prezzo per poi non parlare della gamma media entry level di sony soprattutto media dai 2 300 euro che ha possiamo partire anche da telefoni che hanno un anno e mezzo che sono ancora eccellenti e poi la qualità e la fidelità di sony quindi sony dai 200 euro ai 600 euro trovate quello che volete anche di sony che ha fatto ulteriori passi in avanti one plus one anche qua i modelli magari precedenti a meno come costo nell'ultimo modello gente siamo sui 6 700 euro però un eccezionale prodotto anche qua se volete farvi un regalo e spendere meno parlando dei modelli degli anni precedenti come one plus potete trovare veramente anche online una qualità molto molto buona se volete puntare all'ultimo one plus one dovete spendere un po di più però avete un super smartphone adesso si trova anche comunque vicino ai 500 euro anche lui quindi più per chi li è diciamo per gli specialisti per gli appassionati veri che sanno di cosa sto parlando con one plus one xiaomi leco li dico li cinesi la furia cinese xiaomi e leco e zte insomma chi più ne ha più ne metta no li conoscete li trovate su amazon li trovate nei negozi fisici rapporti qualità prezzo redmi redmi note insomma di xiaomi voi sapete che c'è in giro veramente sui volantini 199 dai 150 ai 300 euro prodotti veramente 3 giga 4 giga di run schermi full hd addirittura qualcuno anche in quad hd quindi riusciamo a stare sotto i 500 euro sicuramente in una fascia di prodotti medio alta e con un rapporto qualità prezzo eccellente quindi anche qua potete qua sicuramente il regalo è più probabile che uno voglia magari andare a fare no un ottimo prodotto un prezzo più contenuto con queste marche qua wiko continua a fare è un po diciamo calata purtroppo non ha avuto quel cambio di passo l'anno scorso poi poi per le pagelle di fine anno ne parleremo poi quando è il momento adesso non è una pagella però lui comunque ha una gamma di prodotti ampia dagli 80 euro ai 3 400 euro buoni funzionano bene sono nel mercato sono nel mercato android non è non sono eccellenti da un punto di vista tecnico aurea non sono deludenti da un punto di vista tecnico aurea sono una fascia media di prodotto buona con dei buoni materiali fatta bene che funziona bene c'è il fever che gira sotto i 200 euro che un con un eccellente dispositivo che magari dell'anno scorso ci sono i nuovi modelli che vanno bene secondo me invece un uico può essere proprio uno dei dei regali più alla portata no come smartphone che vanno bene poi possiamo parlare di marche magari marche proprio brand da primo prezzo diciamo entry level come come prezzo ma magari non più come qualità media con brondi si trovano dei volantini di telefoni media come brondi 90 80 70 euro schermi in hd con 2 3 giga di ram ragazzi e sono validi sono vali sono ben costruiti magari materiali plastici alcuni anche borderless o comunque con design oramai rivisti con un hardware più che su e più che dignitoso che funzionano bene ram che che viaggiano schermi buoni media come anche lei butta dentro magari nel mercato tante cose ma qualcosa di buono c'è brondi sta crescendo ha fatto un modello android che è in giro a 79 89 euro con schermo addirittura in full hd e 2 o 3 giga di euro sarà bene l'ho provato funziona bene poi potrò recensirlo appena qualcuno magari poi me lo avrò a disposizione insomma me lo farò mandare e vedremo anche 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 questi marchi di incominciare a farli vedere perché sotto i 100 euro vicino i 100 euro si trovano telefoni di alta qualità il mercato è largo quindi il regalo è interessante samsung vabbè è top di gamma s8 s8 plus uno oramai l'S8 sotto i 500 a meno di 600 600 appena appena si trova l'S8 passi due android migliori di quest'anno secondo me due telefoni eccezionali ben ottimizzati usabili aggiornatissimi non si impallano mai funzionano bene schermi insomma sapete di cosa sto parlando con s8 eccellenti note 8 per chi vuole il pennino adesso si comincia a trovare a 7 99 sta calando insomma se volete spendere dai 500 in 800 euro con samsung comprate un super smartphone sicuramente eccellente dal punto di vista tecnico e hardware che oramai è il brand di riferimento andrò di insieme ad altri se volete la fascia media samsung chi più ne ha più ne mette vi prendete un j5 lo pagate 150 199 euro uno schermo in hd funziona bene ma poi samsung nella fascia media entry level ne ha diciamo partendo dai 150 euro ai 399 euro chiaramente non sono a livelli dei top di gamma che vi ho detto però funzionano molto bene marchio affidabile e telefoni ovviamente garantiti molto validi quindi io samsung come regalo lo consiglio di più nel top di gamma però se dovete fare media medio di gamma e entry level andate su altro non che non sono validi però samsung lavora molto bene sui top di gamma asser anche qua ogni anno ai suoi modelli ne fa magari pochi ma li fa bene andate a informarvi perché ci sono comunque dei telefoni anche qua dai 200 e dai 150 130 euro ai 300 euro con ottime caratteristiche hardware e tecniche e display e autonomia della batteria per non parlare di asus ma la sua questione Zenfone che invece fa però mai di una realtà che dai 200 euro 150 euro ai 300 400 massimo ci porta veramente 3 4 giga di ram processore schermi full hd o quad hd autonomia della batteria ottime ben l'assistenza che funziona bene parlano bene di asus anche come assistenza migliorata aggiornamenti costanti quindi oramai poi asus vende veramente bene oramai nella telefonia perché ha capito qual è il filone rapporto qualità prezzo ottimo è un telefono che però quel qualcosa non dico di innovativo rispetto non lo so io non riesco a identificarlo uguale agli altri non gli altri magari magari li metti nella massa asus mi sembra che faccia con questa Zenfone da quando ha fatto anche i laser così qualcosa che sembra diverso dagli altri anche se poi è un android prezzo ottimo e qualità ottima quindi anche a perché non asus come regalo nel discorso smartphone per il discorso tablet fate l'inverso su tutti i marchi che vi ho detto tiratevi fuori la qualità chiaramente qua c'è un po più da scremare ipad samsung apple diciamo ogni tablet veramente che se uno vuole fare anche foto video avere qualità di display e autonomie superiori si fa su quei due lì poi ci sono altri marchi eccellenti aser asus che vi ho appena detto che fanno ottimi tablet hanno ottimi che allora anche lì ci state dentro poi ci sono mare cominciamo andare invece su media com o marchi inferiori lì il tablet la differenza di qualche temare meno di 100 euro però display non all'altezza della situazione non in hd ma batterie che durano meno processore caratteristiche tecniche comunque inferiori quindi lì bisogna vedere volete non avete tante possibilità non volete spendere prendete un marchio di primo prezzo e fate un android sotto i 100 euro ci sono mai tablet dai 70 ai 100 euro che fanno il loro diciamo sufficiente sufficiente se invece avete già 200 euro da spendere incominciate a prendere dei tab della samsung che funzionano bene qualcuno già in hd degli asus degli aser e avete già una fascia media se avete più di tutti 300 euro vi trovate già i top di gamma anche dell'anno scorso di samsung che adesso gira 399 che va lì andiamo sul top veramente avete dei tablet che sono veramente eccellenti come dimensione del display del regalo del tablet qualcuno mi chiede anche questo perché veramente arrivano arrivano tantissime richieste qualcuno mi chiede anche la dimensione ideale degli wear ball qualcuno mi ha detto ma la dimensione ideale di uno schermo di un wear ball è un indossabile non lo so a 42 può andare bene dipende cioè la dimensione di un display di un orologio di un quadrante di un orologio così quadrato come l'apple watch va benissimo con la dimensione che sia leggibile si veda bene poi lì una questione proprio meramente di gusti io ho recensito un cinese che ha uno schermo grande così si vede bene voglio dire che non ha la definizione è un po troppo grosso però a me piace più piccolo come l'apple watch un 42 vanno benissimo poi ci sono anche il taglio diciamo oled che per esempio nei gear fit io ancora il gear fit 1 vanno da dio e hanno quella quel taglio curvo che sta bene sulla sul polso io li adoro anche da quel tipologia lì insomma il wear ball veramente una scena veramente di tutti i gusti anche lì è un discorso un po lungo sui tablet vi ho appena detto appunto come come dimensione io direi l'otto pollici secondo me è l'ideale perché si vede 8 pollici 8 sono veramente una una dimensione sufficiente per qualsiasi diciamo contenuto sia video no che vogliamo che vogliamo vedere oppure navigazione in internet 8 pollici lo portiamo dove vogliamo ci sta nelle nostre marsupi nelle nostre borse senza problemi anche in una tasca forse un po dura però ci entra in qualche modo magari del giugotto e abbiamo a disposizione un taglio di tutto rispetto con uno schermo da 8 pollici che può fare tutto essere più manovrabile i 9 e 7 o i 10 e 1 comunque sono display più ampi che offrono più con più diciamo veduta larga dei contenuti video però magari dal punto di vista della portabilità si sono assottigliati molto si sono ristretti molto ma sono sempre più grandi e un tablet ideale lo vedo 8 8 e mezzo questa è la fascia che io regalerei poi se uno mi dice io voglio il tablet da 10 il regalo da otto mi dice paolo che cazzo scusate il telecaste regalato io lo voglio lo voglio da otto me lo regali da 10 avete capito comunque questi erano i consigli dallo smartphone poi sono andato anche un po sui wearball per i regali di natale sono anche su instagram vi ho già detto se volete aggiungere il contatto instagram perché ci saranno anche foto di telefoni magari qualche anche te prima delle rubriche e delle appunto dei video che vanno poi in onda sul canale ma anche qualche foto simpatica basta aggiungermi come paolo uguale a 4k pt ecco come uguale a paolo mi trovate comunque anche su instagram ciao e grazie come sempre ciao